Buonasera. Aiuto, aiuto. Il jingle. Perché Salerno è Salerno. Per quanto ne so, potrebbe ancora esserci in onda facchinetti che urla Non si può! Non si può! Ma lasci stare i facchinetti. Non lasci tu a! È vero, è vero. E allora, insomma. Hai ragione. Non si può guardare una siffatta fetenzia di manifestazione. Non si può!